Per Giallo Carta, i sei migliori colpi, Morfeo, un racconto di Marco Grieco, legge Luca Violini. Guardò l'orologio, sentì morire sulle labbra un sorriso amaro. Questa volta stava battendo tutti i record, sei giorni, sei interminabili giorni e cinque interminabili notti. Per tutto questo tempo era riuscito a stare sveglio. Aveva fatto molta attenzione a non sedersi mai in una sedia troppo comoda. Aveva persino evitato di appoggiarsi ad un muro o di fare qualcosa di monotono. Aveva risposto agli incessanti stimoli del sonno, con massicce dosi di caffè. In effetti, si rendeva conto di aver camminato di continuo. Durante il giorno la luce del sole lo aiutava un po'. Tutto intorno risultava più vario. Spesso si concentrava sui dialoghi dei passanti e cercava di carpire aspetti di una vita ordinaria che a lui era negata. Non importava. Anche quello contribuiva a tenerlo sveglio. Altre volte invece riusciva ad imporsi piccole sfide infantili, come camminare sui marciapiedi senza mai calpestare le linee di demarcazione tra le mattonelle. Anche queste piccole trovate contribuivano al suo scopo. Rimanere sveglio quanto più possibile. Ma durante la notte tutto diventava di gran lunga più difficile. I centri commerciali erano chiusi, la città diventava monotona. Tutto invitava a riposarsi, a lasciarsi andare. La mattina precedente aveva quasi ceduto. Erano le prime luci dell'alba e il torpore stava per impadronirsi definitivamente del suo corpo esausto. Stava cercando di raggiungere la fontanella al centro del parco per poter dirigere il getto sulla sua faccia. Ma era ancora lontano. Sentiva l'impulso di correre, ma sapeva che se lo avesse assecondato, poi si sarebbe sentito ancora più stanco. Doveva solo camminare, un passo dopo l'altro. Poi di colpo si era ritrovato in ginocchio, come se il tempo gli avesse sottratto quella manciata di secondi necessari ad assumere quella postura. In ginocchio, con il corpo appoggiato ad un lampione nei pressi di una edicola di giornali. Poco più avanti la fontanella che zampillava, irraggiungibile. Sentiva le palpebre calare lentamente ed inesorabilmente su ciò che stava osservando. Il mondo si stava riducendo ad una sottile fessura ombrosa. Era stato solo un attimo. Le pupille avevano messo a fuoco il pacco di giornali freschi di stampa, che un fattorino aveva appena lasciato all'ingresso dell'edicola. La sua mente era riuscita a leggere il titolo sulla prima pagina, che annunciava la scoperta dei cadaveri di una donna e della sua bambina uccise una settimana prima a colpi di martello in un'auto rimessa semiabbandonata alla periferia sud della città. Aveva sentito una scossa di paura. Gli occhi si erano spalancati. Aveva accolto con una risata liberatoria l'adrenalina che prendeva a scorrergli nel sangue. Non si sarebbe addormentato. Non più. E così aveva continuato a vagare per la città fino a quando, nel pomeriggio, il cielo si era caricato di nuvole nere come la pece. Le prime gocce si era rifugiato in quel bar. E lì era rimasto attendendo che la pioggia cessasse. Vede la cameriera avvicinarsi con un sorriso stentato. Appena giunta al tavolo, indicò l'orologio al muro che segnava l'una del mattino. «Dobbiamo chiudere, signore». Lui annui. Bebbe l'ultimo sorso d'acqua dalla bottiglietta di plastica, accanto alla tazza vuota, e si alzò. Si accorse che la cameriera stava allontanandosi. E la chiamò. «Signorina, mi scusi». La donna si fermò visibilmente seccata, mentre già stava sfilandosi il grembiule. Si voltò verso di lui aspettando che continuasse. Lui agitò la bottiglietta di plastica verso di lei. «Sarebbe così gentile da riempirmi di caffè questa bottiglietta». La donna inclinò la testa da un lato all'altro. Si avvicinò. «Signore, da quando è arrivato oggi pomeriggio, ha bevuto nove caffè, capisce? Nove. E inoltre ormai la macchina è spenta, non posso accontentarla». Cosiddetto si girò di spalle e si diresse verso il retro del locale, continuando a parlare. «Stia a sentire a me, è tardi. Vada a casa e cerchi di riposare. Se riesci ancora a farlo, con tutti quei caffè in corpo». Una risata della donna coprì appena il sommesso piagnocolio dell'uomo, che oramai si era riaccasciato sulla sedia e teniva le mani tra i capelli e i gomiti appoggiati al tavolino. «No, la prego. Le ho chiesto solo un po' di caffè, la prego. Sono troppo stanco». Si accorse che le palpebre si erano chiuse. Cercò con tutto se stesso di riaprirle, ma non riuscì. Gli fu possibile solo sussurrare. «Ho sonno, ho tanto sonno. Lei non... capisce, io non posso. Non devo». La sua testa si accasciò sul tavolino. Il buio era tutto intorno e dentro di lui. Un sole splendido primaverile, tarda mattinata. Guardava la piazza dall'alto del suo punto di osservazione. Rondini che volteggiavano intorno al campanile. Si guardò intorno. Non conosceva quel posto. Era tutto immerso in una luce abbagliante e tutti i colori sembravano innaturalmente saturi. Si accorse di essere affacciato ad un vecchio terrazzo pieno di lenzuola bianche che volteggiavano distese al sole e a quella leggera brezza che gli muoviva i capelli. Non avrebbe saputo dire da quanto fosse lì, ma si sentiva bene. Alzò gli occhi verso il cielo proteggendoli dal sole con la mano. Riuscì a distinguere un aquilone colorato che volteggiava in direzione della spiaggia, finché colse con la coda dell'occhio un movimento, uno sprazzo di colore tra le lenzuola bianche. Si voltò di scatto e la vide. Bellissima. Si dirigeva verso di lui con un'andatura che sembrava fosse infinitamente rallentata. Il tempo sembrava cristallizzato. Lui abbassò lo sguardo e le guardò le gambe bentornite che fuori uscivano sotto al leggero vestitino primaverile a fiori. Fiori gialli su fondo rosso. Rialzò lo sguardo e non fece in tempo a mettere meglio a fuoco il suo viso che lei si voltò di spalle. Aveva un corpo meraviglioso. Il suo sguardo cadde sui glutei sodi e sollevati. Poi si alzò lentamente a seguire il contorno dei suoi fianchi. Le sue braccia sollevate a fissare una molletta sul lenzuolo che incorniciavano la sua chioma scura, lunga e morbida, che cercava di conquistare l'interezza della sua schiena lasciata scoperta dal generoso abitino. Poi, d'un tratto, udì la sua voce. Gli parlava di spalle, continuando a fissare mollette. «Se stai pensando a mio marito, stai tranquillo, non torna prima di stasera». Poi si rese conto di udire la propria voce rispondere, come se non fosse lui a parlare, come se non gli appartenesse. «Sei davvero insaziabile, Miranda. Vuoi farlo ancora?» Lei si voltò chinandosi a raccogliere un altro lenzuolo bagnato dalla cesta. «C'è Luca che va dai clienti e ho tanta lenzuola da stendere. Nessuno mi cercherà prima dell'ora di cena. E se non ti va di farlo qui c'è sempre la ventuno che la coppia spagnola ha lasciato stamattina. «Cos'è? Ne hai già abbastanza?» Nel formulare quella domanda tirò sulla testa mentre il corpo era ancora chino sulla cesta. I suoi occhi bruciavano di desiderio. In quella posizione lui poteva scorgere i suoi seni attraverso la scollatura. Erano grandi e promettenti. Eppure quasi non si rendeva conto di ciò che vedeva e sentiva. Aveva fatto l'amore con lei. Quando? Si affrettò a rispondere. «Lo sai che non mi basti mai, Miranda». E così dicendole si avvicinò rapidamente. Lei non ebbe il tempo di sollevarsi. Che lui gli mantenne ferma la testa con una mano, che le strinse i capelli fino quasi a farle male. Lei emise un gemito. Strattonandola con la mano tra i capelli le avvicinò la bocca alla cerniera dei suoi jeans. Con l'altra mano raccolse dalle sue mani il lenzuolo bagnato. Non appena lei ebbe le mani libere, gli slacciò la cintura e gli abbassò la cerniera. Gli infilò una mano nei pantaloni e prese a dargli piacere. Lui lasciò i capelli della donna e fece passare il lenzuolo arrotolato al di sotto del suo mento. Lei si discostò e gli chiese ridacchiando. «Porcellino! Che ha intenzione di fare?» Lui sorrise a sua volta. E la voce ora non era più proveniente da altrove. Era lui a comandarla. Era finalmente la sua voce. «Ti ammazzo, lurida puttana!» Di scatto le strinse il lenzuolo intorno al collo e prese ad arrotolare i due lembi opposti su se stessi, con una forza incredibile. La donna gemeva, gli occhi terrorizzati. Lui rideva, rideva. Quando lei smise di dibattersi, lui dette un ultimo strattone a quel cappio fatto di lenzuolo e poi lasciò che il corpo senza vita si appropriasse di una posa scomposta sul pavimento della terrazza. Si guardò intorno. Nessuno poteva aver visto. L'unica costruzione più alta in quella piazza era il campanile deserto della chiesa di fronte. Si riallacciò i jeans, si affacciò rapidamente. Tutto continuava a scorrere nella più assoluta normalità. Il sole, le rondini, l'aquilone. Si allontanò dal parapetto e cominciò a correre verso le scale. In un attimo fu in strada. Si accorse di essere sudato. Si tamponò la fronte con un fazzoletto e prese a camminare per strada facendo attenzione a cercare di essere naturale, normale. Dopo mezz'ora di cammino entrò in un cancello in ferro abbattuto. Percorse un lungo e ripido viale. Sentiva i suoi passi scanditi dalla ghiaia sotto i suoi piedi. Raggiunse una villa da sogno. Tutti intorno fiori di tutte le specie. Salì gli scalini del porticato e spinse la pesante porta verso l'interno. Appena fu dentro si accorse che la villa era immersa nell'ombra. Fece qualche passo. Una macchia biancastra indistinta dall'altro lato della stanza corse verso di lui. Un piccolo, delizioso coniglietto bianco. Sechinoe lo raccolse prendendo a carezzarlo. Si avvicinò alla sedia a dondolo vicino al camino e vi si lasciò cadere pesantemente, chiuse gli occhi. Si sentiva sazio, appagato e carezzare quel coniglio lo rilassava. Addormentava le sue domande, leniva le sue residue preoccupazioni. Nell'oscurità gli sembrò di sentire una voce di donna che lo chiamava. Nella nebbia calata nella sua mente la voce cercava di farsi spazio per raggiungerlo. «Alzati!» diceva. «Mi senti? Alzati!» La donna gli spinse il manganello nero sotto il costato e gridò ancora. «Mi senti? Devi alzarti! Non puoi stare qui!» Lui si guardò intorno. Era in un angusto vicolo. Il cielo plumbeo. Tutto intorno al suo corpo immondizia e carte di giornali. Mise a fuoco la donna poliziotto e il suo collega. Poco dietro di loro il camion per la raccolta dei rifiuti. Si alzò. Si scrollò la sporcizia dalla giacca e rivolse un sorriso riconoscente ai due. «Grazie, agenti, grazie per avermi svegliata!» I due poliziotti si guardarono con un'espressione tra il divertito e l'incredulo. Voltarono le spalle e si allontanarono. Gli uomini della polizia iniziarono il loro lavoro in quel vicolo. Lui si passò una mano tra i capelli, si sentiva riposato. Eppure, quel timore che lo accompagnava sempre ai suoi risvegli era già lì, pronto a dar mostra di sé. Percorse il vicolo fino a raggiungere la strada principale. Capì dal traffico che era già mattino inoltrato. Guardò l'orologio, non c'era più. Dovevano avergli lo rubato mentre dormiva. Non importava, era un pezzo da quattro soldi. Anche questa volta il sogno lo aveva coinvolto pienamente nella sua incredibile verosimiglianza. Quel pensiero gli fece tornare alla mente il solito timore che puntualmente si era rivelato certezza. Eppure il sentirsi finalmente riposato e lontano dal prossimo sogno riusciva a donargli una timida sensazione di buon umore. E poi chissà, forse per una volta i timori sarebbero rimasti solo tali. Ad ogni modo, era certamente troppo presto per dirlo. Si incamminò nel flusso della gente per strada. Si diresse verso il centro della città ed entrò in un centro commerciale. Aveva fame. Tastò la tasca posteriore. Il portafoglio, per fortuna, era ancora là. Nuovamente il timore tornò ad attanagliarlo. Aveva paura di guardare il contenuto del suo portafoglio. Ricordava di aver speso gli ultimi soldi per i caffè del giorno prima. Ci sarebbero dovuti essere soltanto pochi spiccioli. E invece? Appena aprì il portafoglio il timore, ancora una volta divenne paura, terrore certo. L'interno era pieno zeppo di biglietti da 50 euro, come le altre volte, come se qualcuno lo avesse pagato. imprecò e una vecchia signora con il carrello poco distante da lui gli rivolse un'occhiata di disappunto. Rimese a posto il portafoglio e si incamminò verso i bagni. Si liberò e si tolse la giacca e la camicia iniziando a lavarsi la faccia e le ascelle ad uno dei lavandini. Faceva sempre così. Con tutti quei soldi avrebbe senz'altro potuto permettersi di vivere stabilmente in un'ottima camera d'albergo. Il problema era che non ne esistessero senza un letto e lui temeva il letto. Temeva qualsiasi cosa potesse invitarlo a riposare, a dormire. Passò le successive tre ore a visitare tutti i negozi del centro commerciale, soffermandosi sugli articoli, impiegando tempo con le commesse. Comprò un nuovo jeans, una nuova camicia, una nuova giacca. Appallottolò gli indumenti che indossava da non più di tre giorni e li gettò nel primo cestino dei rifiuti. Lesse i cartelloni pubblicitari del cinema multisala. Ovviamente scartò tutti quei film dalla trama e dal ritmo morbidi. Scelse di impiegare le successive due ore a vedere un film tutto azione ed adrenalina. Uscì dal cinema che era ancora giorno. Si avvicinò alla vetrina di un negozio di elettrodomestici. Rimase pietrificato. Tutti i televisori esposti mostravano la stessa immagine. Il volto sorridente e conosciuto di una donna fissato in una fotografia. erano le immagini del telegiornale serale. Non c'era l'audio ma dopo pochi secondi apparve in basso il nome della donna. Miranda Ramirez. Sentì come un colpo allo stomaco. Non si aspettava di venirlo a sapere così presto. Le altre volte aveva avuto tregue più lunghe, respiri più ampi. In preda al nervosismo corse all'interno del negozio e chiese ad un commesso di alzare il volume di uno dei televisori. La donna, recitava lo speaker, era stata trovata uccisa in un piccolo paese sul mare del sud a 500 chilometri da dove lui si trovava ora strangolata con un lenzuolo bianco bagnato. La donna gestiva con il fratellastro Luca e con il marito un piccolo albergo nella piazza centrale. Trasmisero le immagini riprese dal terrazzo dove era avvenuto quella mattina l'omicidio. vide il campanile, le rondini, il sole splendente e il cameraman sfumò la ripresa su un piccolo dettaglio contrastante in lontananza, un coloratissimo aquilone. Si accorse di star gridando «No! No!» continuava a ripetere mentre con le mani si tappava le orecchie. Tutti i clienti del negozio si voltarono. lui corse fuori continuando a gridare. Continuò a correre fino ad uscire dal centro commerciale. Ormai il pianto aveva preso il posto delle grida. Quante volte ancora sarebbe successo? Quante volte ancora avrebbe scoperto che la realtà prendeva spunto dai suoi sogni? Quante volte ancora sarebbe stato misteriosamente pagato per ispirare quegli omicidi? Si sentiva esausto e stanco di scappare dalla sua stanchezza. Sapeva che non avrebbe dovuto correre. In questo modo sarebbe crollato più presto. Ma se ne infischiò. Continuò a lanciare un piede avanti ad un altro in uno sforzo spasmodico di correre quanto più lontano fosse possibile. Quasi come fosse consentito scappare da se stessi, dai propri incubi. si accorse che il fiato cominciava a mancargli e rallentò il passo. Rallentò ancora finché si rese conto di essersi fermato. A pochi passi da lui una cabina telefonica, una stazione di servizio abbandonata e la strada che continuava a divincolarsi verso i campi della periferia. Le sue orecchie erano piene del rumore incessante del suo fiatone. Guardò ancora la cabina. Fu in quel momento che ebbe un'idea per liberarsi almeno un poco del terribile peso che si portava dentro. Doveva condividere quell'abisso nero con qualcuno. Entrò nella cabina, aprì a caso l'elenco decurtato di una infinità di fogli, puntò il dito su un punto del foglio e lesse il numero. Si frugò nelle tasche e trovò qualche moneta che inserì avidamente nell'apparicchio telefonico. sganciò la cornetta e compose il numero. Uno squillo, due, tre. Finalmente una voce di donna dall'altro capo della linea. Pronto? Pronto, signora, ho bisogno d'aiuto. Un lungo silenzio. Lui sperò che la signora non riagganciasse. Poi quella voce femminile lo rassicurò. Dimmi, figliuolo, come posso aiutarti? Signora, sono esausto. Quel che sogno diviene realtà. La vecchia signora sbottò in una sonora risata. Figliuolo, e di cosa ti lamenti? Tutti vorremmo che i nostri sogni si avverassero. E cos'è? Uno scherzo? Dio, signora, i miei sogni non sono sogni di successo, di felicità e serenità. E allora cosa? Ogni volta che mi addormento sogno che uccido qualcuno e ogni volta che mi risveglio scopro che quel qualcuno è morto davvero, dove come l'ho sognato. La signora restò per un attimo in silenzio ascoltando i singhiozzi dell'uomo, poi gli disse timidamente «So, so, giovanotto, magari sono somiglianze, coincidenze, magari lei…» L'uomo la interruppe. «Nessuna somiglianza, cazzo, nessuna coincidenza. Potrei dirle ogni minimo particolare di quegli omicidi». La signora cominciò ad avere paura e non se la sentì di controbatterlo. L'uomo continuò quasi assaporando un sottile piacere. «Si ricorda quella ragazzina di quindici anni seppellita viva, quella Rebecca di cui hanno parlato tutti i giornali due mesi fa. Ebbene dicevano che era stata portata in quel campo vicino alla stalla abbandonata con la violenza, che era stata costretta. Non è vero. Nel mio sogno si guadagnava qualche euro facendo seghe agli uomini che incontrava nel breve tragitto a piedi dalla scuola alla sua abitazione a cui lasciava il suo cellulare. Nel sogno la chiamai e mi disse di andare a prenderla all'uscita della palestra. Così feci lei. Mi indicò quel campo. Volle che ci andassimo a piedi. Era un chilometro circa dalla palestra. Quando arrivammo lì mi mise una mano nei pantaloni e io non lasciai neppure che iniziasse. Solo allora e non prima cominciai a picchiarla. Dio, quel sogno era terribile. Perse quasi subito i sensi. a pochi metri c'era una stalla. Intraviri un badile e pensai di usarlo per seppellirla. Feci una buca non troppo profonda e la calai all'interno. Poi cominciai a ricoprire il suo corpo di terra. Quando ormai avevo quasi riempito la buca sentii il suo lamento provenire da lì sotto. Piangeva. Gridava. Cazzo. La signora all'altro capo era totalmente pietrificata dall'orrore. L'uomo continuò. E una settimana fa si ricorda Esther e sua figlia Yolanda. Nel sogno ho fracassato loro il cranio a colpi di martello. Prima la madre poi la piccola. Continuava a gridare a gridare. I giornali hanno scritto circa 25 martellate in tutto. No signora molte molte di più. Capisce ora. Capisce in quale orribile mostruoso incubo mi caccio ogni volta che mi addormento. Riesco a stare sveglio per qualche giorno. Bevo centinaia di caffè ma poi poi la stanchezza. Fu in quel momento che si lasciò scivolare sul fondo della cabina singhiozzando in modo sconnesso. Il segnale intermittente nella cornetta lo avvertì che non avrebbe più ascoltato la voce di quella donna. Il singhiozzo lasciò presto il posto ad un pianto sommesso. poi un flebile lamento poi lo sfinimento e il riposo presero il sopravvento. Bussavano alla porta con forza. Sentiva la voce che gridava provenire dall'esterno ovattata. Polizia ci apro sfondiamo la porta! si destò immediatamente e corse verso la direzione opposta a quella dalla quale quel trambusto proveniva. Oltrepassò un lungo corridoio e scese qualche gradino verso il basso nel sottoscala. Si avvicinò ad un'asse leggermente disallineata e la tirò con forza. L'asse cedette e il sole invase l'oscurità. Nello stesso istante sentì il rumore della porta d'ingresso che veniva abbattuta. Si infilò nell'angusto passaggio e si ritrovò sul retro della casa dietro una lunga siepe. Prese a correre furiosamente verso il bosco. Sentì il latrare di cani. I cani lo inseguivano. Voci che gridavano in lontananza. Eccolo! Eccolo! Continuò a correre senza sosta e raggiunse lo steccato. Corse attraverso il bosco fino alla radura. Sentiva i cani ormai vicini. La radura terminava con il dirupo sulla scogliera. Di là non c'era via di scampo. Si voltò indietro. Cani e poliziotti erano ormai anch'essi sbucati sulla radura. Tornò a voltarsi verso il mare. Il sole era poco alto ancora, in procinto di tuffarsi da lì a breve in uno splendido tramonto multicolore. Un poliziotto gridò «Fermo lì! Porta le mani in alto e non ti faremo alcun male!» Si voltò ancora una volta verso di loro ed alzò lentamente le mani. Si sarebbe arreso? Era la cosa più intelligente da fare. Almeno non sarebbe morto. Avrebbe un momento. Quello era un sogno. Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Volare magari. si volare su quelle scogliere tempestate dai flutti. E seppure fosse stato colpito se si fosse sfracellato al suolo. Probabilmente si sarebbe svegliato un po' più spaventato e sudato del solito. Doveva essere stata quella telefonata del cazzo a quella megera ad avergli incasinato i sogni. Decise. Inarcò appena un limbo della bocca in un sardonico sorriso. Poi come un fulmine si voltò e si lasciò cadere verso la scogliera sottostante. Immediatamente sentì riecheggiare gli spari dietro di lui. Sentì il dolore ad una gamba ma quel dolore non avrebbe impedito che spiccasse il volo. Oramai il suo peso era totalmente sbilanciato verso l'abisso e niente e nessuno avrebbero più potuto fermarlo. Sorriso ancora nonostante il dolore. Non spiccò il volo. Non ci pensò neppure. era un sogno piuttosto frequente e diffuso. Cadere da un grattacielo o da una rupe risvegliarsi sudati ed impauriti al momento dell'impatto con il suolo. Sentì il vento aumentare quasi sorreggerlo. Vide gli scogli divenire sempre più vicini più vicini poi un tonfo interrotto. Il buio. Gli uomini della scientifica erano tutti intorno al cadavere quando si avvicinò un anziano signore con una lunga chioma bianca. Il tenente incaricato del caso gli si avvicinò con impazienza. Professor Ribera grazie per essere venuto subito. L'anziano uomo quasi ignorò le parole del tenente. L'abbiamo chiamata appena abbiamo scoperto la sua identità. Ci risulta che si è scappato dalla sua clinica più di un anno fa. è così? Il professore annuì e si avvicinò al corpo. Si sporse per osservare il viso per metà reso irriconoscibile dal sangue. Poi si allontanò e finalmente si rivolse al tenente. È proprio Tobias è lui. Il tenente guardò il cadavere e poi posò uno sguardo accigliato negli occhi profondi e tristi del professore. Professore una domanda quando i miei uomini lo hanno accerchiato lassù sulla radura a picco sul mare giurano di aver visto sul suo volto un sorriso di soddisfazione prima che si gettasse di sotto. Eppure aveva fatto di tutto per fuggire e gli indizi a suo carico non sono neppure così schiaccianti. Perché ha scelto di andare incontro ad una morte certa piuttosto che scegliere di farsi prendere e forse anche di farla franca? il vecchio posò il suo stanco sguardo nuovamente sul corpo abbracciato allo scoglio. Vede, tenente, Tobias era affetto da una malattia molto rara, una sindrome in cui si confondono i sogni con la realtà. Probabilmente era convinto di star vivendo un sogno. Chissà quante volte invece avrà vissuto sogni credendo che fossero realtà. Ufficio locale della polizia di Stato stesso giorno ore 20 e 55. Il telefono del centralino pronto intervento squillò. Rispose Vanda di turno da un paio d'ore. Pronto intervento sono Vanda in cosa posso esserle utile? Dall'altro capo una corposa voce di donna. Sì, signorina mi scusi pensavo fosse stupido chiamare ma poi mi sono detta forse la polizia ne sa qualcosa. Oggi mi ha telefonato un uomo in preda ad una crisi isterica. Mi ha parlato di sogni che diventano realtà. Non ho potuto capire tutto bene. Diceva di aver ucciso tanta di quella gente in sogno e che poi quelle persone morivano davvero. Mi dica ma è possibile? di aver guardato di aver guardato Grazie a tutti.